E' stato il rientro in anticipo del figlio in casa a consentire, grazie all'azione congiunta degli agenti della squadra mobile delle volanti della Questura di Lecce, l'arresto di un 28enne della provincia di Napoli. Il giovane, con l'obiettivo di entrare in possesso di soldi e gioielli di un'anziana donna di 94 anni, l'ha contattata telefonicamente e fingendosi un carabiniere le ha comunicato che i suoi due figli si trovavano entrambi in caserma perché uno dei due era stato arrestato in seguito ad un grave incidente e per risolvere la situazione avrebbe dovuto pagare. Da qui l'invito a raccimolare tutti i soldi e gioielli che aveva in casa per consegnarli ad un collega che sarebbe passato a prenderli da lì a poco. Il presunto truffatore però non aveva calcolato un imprevisto, il rientro in casa in anticipo di uno dei due figli dell'anziana signora. L'uomo, una volta rientrato, ha trovato la madre dietro la porta dell'abitazione, in piedi e con in mano denaro contante e gioielli. La donna, sbalordita di vederlo in casa, ha raccontato che poco prima era stata contattata da un carabiniere che le aveva comunicato che i suoi due figli si trovavano entrambi in caserma perché uno dei due era stato arrestato in seguito ad un grave incidente e per risolvere la situazione avrebbe dovuto pagare. Il figlio ha allertato subito le forze dell'ordine che giunte sul posto hanno seguito tutti i passaggi che hanno poi permesso di sorprendere sul fatto il truffatore arrivato in casa della donna per prelevare il provento della truffa e arrestarlo. Gli agenti in seguito hanno acquisito ulteriori informazioni da un'altra possibile vittima che aveva segnalato un tentativo di truffa nella stessa mattinata riscontrando lo stesso modus operandi. Non solo poche ore prima ad Alezio un 22enne e un 62enne del capoluogo campano erano finiti nei guai per un'altra truffa del finto nipote.